Un concorso di idee per la riqualificazione urbana del lungo fiume Tanagro a Polla aperto ad architetti ed ingegneri e l'idea lanciata dal sindaco Giuliano e dall'assessore ai lavori pubblici citarella alla realizzazione del progetto sarà inserita nella prossima programmazione annuale e avverrà attraverso il ricorso a forme ordinali di finanziamento pubblico. Un importante provvedimento dell'aggiunta comunale che fa seguito ad un impegno contenuto nel nostro programma elettorale, spiega il sindaco Giuliano, che ora vede il primo concreto passo per la sua attuazione. Il concorso di idee verrà regolato da un bando di concorso pubblicato sul sito del comune di Polla e prevede dei premi in denaro ai primi tre classificati oltre alla possibilità per il vincitore di vedersi affidato il progetto definitivo ed esecutivo delle opere a condizioni naturalmente che il concorrente abbia i requisiti minimi di idoneità tecnica ed economica. L'obiettivo del concorso di idee specifica all'assessore citarella è quello di recepire nuove idee per individuare le soluzioni progettuali migliori che giungeranno da progettisti del nostro territorio e non, i quali potranno così mettersi in gioco per abbellire la propria città attraverso idee che rispecchino i canoni di una visione urbanistica proiettata al miglioramento degli spazi urbani esistenti, alla sostenibilità ambientale, all'aggregazione della popolazione e ad un miglioramento della qualità della vita.